Nei nostri appuntamenti della settimana che stiamo per concludere ci siamo occupati di varie espressioni, di termini che fanno riferimenti ai concetti che sottendono in modo particolare ai rapporti fra cittadini ed istituzioni europee. Abbiamo parlato così della trasparenza, cioè della necessità di consentire ai cittadini di vedere chiaro nelle decisioni che vengono assunte nei palazzi europei, di capire come si svolgono questi meccanismi, di poter avere facile accesso ai documenti che vengono prodotti dalle istituzioni comunitarie. Per quanto riguarda la trasparenza è un'esigenza sempre più avvertita, abbiamo anche sottolineato ed è doveroso riconoscere che in questi ultimi anni sono stati fatti dei processi importanti, dei progressi importanti, grazie anche alla nuova tecnologia. Con internet possiamo consultare molti documenti e vi sono possibilità maggiori evidentemente rispetto al passato. Abbiamo parlato poi della cosiddetta governance europea, un argomento di grande attualità il quale riguarda l'insieme delle norme, dei procedimenti, dei meccanismi che vengono attivati all'interno delle istituzioni europee in riferimento evidentemente alle esigenze dei cittadini, alla possibilità di partecipazione da parte dei cittadini e dalla esigenza di creare un loro coinvolgimento in modo tale che i cittadini possano realmente sentirsi parte di questo processo di integrazione europea che possono realmente sentirsi cittadini europei. Al riguardo sono state sottolineate varie carenze, in tale contesto dobbiamo anche prendere atto dei risultati delle recenti elezioni del Parlamento europeo con la scarsa partecipazione al voto, evidentemente questo fatto ha evidenziato come vi sia la rinascita di un certo euroscetticismo nei confronti del processo di integrazione europea, nei confronti delle istituzioni europee, un fenomeno che per molti versi abbiamo registrato già negli anni Ottanta quando vi fu un distacco molto accentuato da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni europee, si parlava appunto di questo diffuso fenomeno dell'euroscetticismo. Evidentemente in tale contesto è da sottolineare che le istituzioni europee sono molto complesse, si tratta di organismi che raccolgono istanze che provengono da più stati nazionali, ora abbiamo 25 stati membri che fanno parte dell'Unione europea. È chiaro che ciò non giustifica una carenza di trasparenza, non giustifica una carenza di rapporti fra istituzioni e cittadini. È necessario, e appunto i segnali che sono stati lanciati dalle recenti elezioni del Parlamento europeo sono altamente eloquenti, è necessario dunque attivarsi per creare maggiori collegamenti fra cittadini ed istituzioni. Noi nei nostri appuntamenti quotidiani di Europa cerchiamo di dare il nostro contributo al riguardo, molte presentazioni le abbiamo fatte, le facciamo parlando dall'interno dei palazzi, sede delle istituzioni, le parliamo dall'esterno, spesse volte e molte volte facciamo parire sullo sfondo i palazzi europei proprio per creare, per cercare di dare un contributo di avvicinamento delle istituzioni europee ai cittadini. A riguardo peraltro va sottolineato che anche i cittadini debbono attivarsi per avere maggiori contatti con le istituzioni europee. Abbiamo i rappresentanti che vengono letti nel Parlamento europeo ogni cinque anni, certamente loro sono impegnati a Bruxelles, sono impegnati a Strasburgo per le sedute del Parlamento europeo, per svolgere il loro lavoro, ma possiamo anche loro, abbiamo il legittimo diritto di chiedere loro di creare collegamenti maggiori probabilmente tra queste istituzioni e di cittadini. Abbiamo inoltre il Comitato delle Regioni. Il Comitato delle Regioni istituito dal Trattato di Maastricht del 1992 è stato voluto proprio per creare maggiori collegamenti fra la base, fra le realtà locali, fra le realtà regionali, provinciali, comunali e le istituzioni europee. Ai rappresentanti nel Comitato delle Regioni dobbiamo rivolgerci per chiedere, per sollecitare iniziative, per creare insomma un contesto di maggiore partecipazione. Questo è necessario, gli strumenti in parte ci sono, in parte dovranno essere realizzati, ma è necessaria la convergenza della volontà delle istituzioni, della disponibilità e dell'attività dei cittadini stessi. Grazie a tutti.